Sì, grazie. Collegati in diretta con l'esterno dello stadio Benito Stilpe. Ringrazio il direttore sportivo delle Pescara Antonio Bocchetti per aver raggiunto la nostra postazione. Direttore, partiamo dalla fine, da questo risultato, un punto di speranza. Però la vittoria sarebbe stata tutta un'altra cosa. Certo, dovevamo fare qualcosa di più per vincere la partita. Però dobbiamo capire anche che la natura è arrivata da pochi giorni. Ci sono dei concetti totalmente diversi da prima, quindi bisogna capire come vuole giocare l'allenatore. È un buon punto, sì, però potevamo sfruttare meglio la palla di Odgar. E stavamo parlando comunque di una vittoria preziosissima. Quell'occasione grida un po' vendetta, senza ovviamente voler gettare la croce addosso a questo giocatore. Però lì davanti, senza Setter, Giannetti ancora indisponibile? Si fa fatica ad andare a concludere a rete? Non è a questione di uomini, è a questione di come arrivi ad attaccare gli avversari. Non male affrontavamo una squadra molto forte, molto compatta, con dei giocatori importanti. È una squadra che lavora insieme da un paio d'anni. Quindi venendo qui e cercando di fare qualcosa di diverso è stato un buon segnale. Che non basta per vincere una partita. Però diciamo che l'occasione d'oro l'abbiamo avuta noi e non loro. Si è visto questa sera, direttore, un Pescara essenziale. Avete corso pochissimi rischi. È vero che non ci sono state grandissime occasioni, al di là di quella clamorosa di Odgar. Per molti tratti di gara si è vista anche una squadra aggressiva che ha cercato di fare pressione sull'avversario. Sì, abbiamo preparato comunque la partita un pochettino diversamente. Cioè volevamo alzare un pochettino più il baricentro per cercare di pressare un po' più avanti. Però loro hanno qualità e quindi ci hanno fatto abbassare tante volte. Siamo stati bravi dopo la prima parte del secondo tempo ad uscire bene. Abbiamo avuto qualche occasione. Anche quello con Macin, con il colpo di tacco, poteva tirare in porta. Dobbiamo avere un pochettino più di coraggio. Dobbiamo capire un pochettino meglio cosa vuole l'allenatore. La nota stonata di questa sera è il nuovo infortunio di Drudi. Non so se avete già... No, no, no. È stato secondo me un problema di crampi. Secondo me il ragazzo viene da due mesi, tre mesi in attività. Quindi sapevamo che comunque ci doveva essere una staffetta. Sì, Andrea, ti ascolto. Chiede Andrea Costantini da studio quali sono, secondo il direttore del Pescara, le responsabilità della società perché oggi sulla panchina del Pescara c'era il terzo allenatore della stagione. Tutte. Tutte. La colpa è solo nostra, perché non abbiamo messo in condizioni gli allenatori di fare bene. Però vi si considera che adesso i responsabili hanno un nome e cognome, quindi i giocatori non hanno responsabilità, quindi forse è meglio che in questo momento qua sono un po' più liberi, quindi possono esprimere il loro valore. Perché questa è una rosa di tutto livello. La scelta di Grassadonia e la scelta di Bocchetti? La scelta comunque è dettata da, secondo me, un allenatore bravo. Un allenatore che può fare qualcosa di importante, ha delle idee chiare, lo conosco. Come conoscevo l'anno scorso Sottil, conosco Grassadonia, avevamo bisogno di un allenatore che venisse subito con un entusiasmo giusto. Lui ha accettato subito questa avventura. Sappiamo che è un'avventura difficile, però noi crediamo perché crediamo soprattutto in una rosa che abbiamo. Anche oggi abbiamo parlato anche con il Fosinone, anche loro dicono che abbiamo una buona rosa. Però in questo momento qua non abbiamo bisogno di figurire, ma abbiamo bisogno di giocatori. Questi sono giocatori forti e sicuramente faranno bene. Andrea, ti avevo interrotto la seconda domanda. Sì, sì. Quali sono le caratteristiche di Grassadonia? Insomma, perché l'avete scelto? E Bocchetti Appagani è stato al fianco di Grassadonia, giocatore e poi direttore sportivo con Grassadonia. A Misa ama soprattutto palleggiare da dietro, cercare di fare superiore numerica. Ha delle idee precise che si devono applicare poi in campo. È normale che in una settimana qualcosina si è visto, soprattutto nella costruzione da dietro. Abbiamo rischiato qualcosa in più perché lui non vuole che si getta la palla in avanti, però qualche volta loro prestavano bene e quindi la seconda palla era importante sfruttarla meglio. Bisogna solo lavorare in questo momento qua e dare tempo alla squadra, all'allenatore di capire cosa vuole. Abbiamo un altro minuto con il direttore che ci deve lasciare. Andrea, non so se ci sono altre domande, altrimenti vado a chiudere con una domanda in prospettiva. Perfetto. Allora in prospettiva ovviamente si parla e si pensa a questa gara con il Lecce. è inutile girarci attorno, bisogna cercare di tornare alla vittoria. Noi dobbiamo vincere perché dobbiamo fare punti, perché siamo indietro e quindi anche oggi sono ammaricato per non aver vinto. Sappiamo che non abbiamo fatto grosse cose per vincere, però le due o tre occasioni che abbiamo avuto l'abbiamo avuto noi per vincere la partita, soprattutto quella di Odegaard. Penso che sia stata un'occasione importante. Noi dobbiamo cercare di vincere la partita. Quindi qualsiasi squadra affronteremo, dobbiamo vincere la partita. L'ultimissima c'è la speranza di recuperare Seterre e anche Giannetti a proposito di attacco? Penso di sì, penso di sì.